Aspetta, questa è buffa, questa è buffa, è buffa, è buffa. Vieni la foto, vai. Questa è buffa, davvero era. Ah, no però. Beh, chi c'è? Vitto. Non mi riesce a stare così. Ehi, 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 Ehi. Per fortuna che ho saltato da. Ehi, ehi. 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 ecco qui cos'è la mia ok ok è il tuo 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 La stagione della televisione. Che cosa è la planche? Che cosa è la planche? Che cosa è la planche? Préso. come in, bravo, bravo babbo babbo mamma, 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 mamma mamma, 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 mam Babbo 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 Shhh Babbo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.